E adesso parliamo di fitness perché prosegue fino alla fine di giugno 2013 l'iniziativa The Great Calorie Drive promosso da Zumba Fitness. Il motto di questa iniziativa è non limitarti a bruciare le calorie, regala le Zumba Fitness, vuole così incoraggiare i fan a contribuire alla lotta contro uno dei maggiori rischi per la salute mondiale, ovvero la fame. Durante le lezioni di Zumba l'equivalente delle calorie bruciate in ogni lezione saranno donate a Fed in America e al programma alimentare mondiale. Scopriamo di cosa si tratta. The Great Calorie Drive è la nuova iniziativa di Zumba Fitness insieme al World Food Program dove si sono uniti per combattere la fame nel mondo. Questo succede, tutti gli istruttori a livello globale ci siamo uniti per praticamente soltanto scaricando un'applicazione gratuita da tutti gli smartphone possiamo nel momento in cui arriviamo in palestra a fare la nostra lezione donare 750 calorie che equivale più o meno a un pasto. Quindi ogni volta che io arrivo in palestra scarico l'applicazione, cerco una lezione e inserisco in questo caso Milano, dopodiché faccio il check in in palestra e automaticamente sto regalando un pasto a una persona che veramente ha bisogno in quel momento. È molto semplice, l'applicazione si chiama Zumba Fitness App e dovete scaricarla subito, non dovete aspettare assolutamente niente perché è gratuita, ok?